dalla guerra in ucraina che ci coinvolge tutti e ci fa accogliere la sofferenza in un conflitto delle coscienze che ormai piegate su se stesse dimenticano che nel mondo se ne stanno combattendo altre 33 alla guerra della mafia che dopo i due anni di pandemia si scopre ancora più forte e tentacolare e sempre più presente nei settori del cibo e dell'agricoltura dove investe in bar ristoranti ed alberghi è la variante criminale la più pericolosa da combattere ogni giorno per liberare la filiera dell'agroalimentare italiano dalle tante forme di schiavitù cui la sottopone la malavita a wine news dalla slow wine fair organizzata da bologna fiere con la direzione artistica di slow food la lezione di don luigi ciotti fondatore di libera se io ho augurato a tutti nessuno escluso un conflitto il conflitto delle nostre coscienze perché ci sono troppe coscienze addormentate addomesticate manipolate abbiamo bisogno di essere delle coscienze inquiete perché una coscienza inquieta ritrova le motivazioni per lottare contro gli altri conflitti che sono le guerre e noi da 150 anni abbiamo una guerra tra rigolette all'interno del nostro paese che si chiama mafia nonostante l'impegno la generosità e lavoro di tanti anche il sacrificio di tanti facciamo emergere le cose belle positive che ci sono apprendiamo coscienza che oggi il problema della criminalità di quella criminalità lì è forte loro sono più forti di prima nonostante ripeto le cose belle e i passi notevoli che si sono fatti in avanti nell'arco di questi anni e quindi dobbiamo stare attento perché una delle fonti dei loro investimenti hanno tanto denaro liquido da investire proprio nell'agricoltura in queste aziende agricole nella filiera del dell'agroalimentare ecco loro lì investono hanno denaro acquistano in contanti ristoranti ritroviamo nei grandi mercati ortofruttifici e quindi ripeto ci vuole molta testa molto anche molto cuore e l'ho detto forte a tutti questi questi ottimi persone che operano che credono nel loro prodotto che da loro dignità perché il lavoro è dignità e soprattutto bisogna evitare che per la raccolta ad esempio dell'uva di lavori da fare in campagna non sci scivoli affidando ad altri a sub alti vari che sono in gran parte in mano regolazioni di forme di caporalato lavoro schiavo di tante persone e quindi bisogna essere vigili e attenti fare emergere cose positive prendere coscienza che questi problemi li abbiamo e li abbiamo oggi più che mai in casa con questi due anni di covide la variante più pericolosa oggi possiamo dirlo è stata quella della criminalità loro si sono emettati di tutto hanno trovato nuovi modalità di affari per potenziare largare la loro forza loro potere l'idolatria del denaro che quella che fa ricche le mafie anche tanti porteri forti sulla faccia della terra agricoltura è fondamentale fondamentale l'85 per cento degli esseri viventi sulla faccia della terra sono i vegetali gli esseri umani siamo solo il 3 per cento noi viviamo grazie ai vegetali alle piante al verde allora l'agricoltura perché ci consegna ci permette di vivere ci permette di respirare ci permette di mangiare ecco allora che dobbiamo veramente non dimenticare io non chiamo tanto di transizione preferisco l'invito che ha fatto papa francesco di conversione una conversione verso un'ecologia integrale che mette insieme che disastri ambientali e disastri sociali non sono due crisi diverse ma un'unica crisi socio ambientale allora dobbiamo lottare lottare tutti ognuno per la propria parte coi propri ruoli per i diritti umani ma nello stesso tempo per i diritti della natura e dobbiamo diventare capaci di ascoltare veramente il grido della terra il grido delle nostre montagne del nostro mare il grido delle nostre campagne la terra grida la terra grida tocca a noi rispettarla farla vivere